Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Federico, sono qui oggi per spiegarvi 5 funzioni nascoste che molto probabilmente non sapete della vostra console. Benvenuti a tutti quanti in questo nuovo video e come vedete oggi siamo alla console, dopo un po' di tempo siamo con un nuovo episodio di Impara Mixare perché questo fa parte del videocorso Impara Mixare e oggi andiamo a vedere 5 funzioni che probabilmente la maggior parte di voi non saprà che esistano, comunque ha sempre scartato sulla propria console, che invece potrebbero tornare utili in certe situazioni. Quindi ci sposteremo alla console, andiamo a vedere queste 5 funzioni e utilizzerò il mio DJI M800 e basta un CDJ in questo caso 850. Tuttavia queste funzioni ve le mostro su questa console perché penso che sia quella più standard e tra tutte quante quelle che ho, ma nonostante ciò la maggior parte delle funzioni almeno sarà disponibile su pressoché tutte quante le console che ci sono. Quindi se avete un controller, se avete una stand alone o qualsiasi altra cosa, state tranquilli, questo video fa in ogni caso al caso vostro. Vi invito a seguirmi sui social, come sempre su Instagram, che ho c'è l'adoro Federico e su Telegram sia sul canale che sul gruppo e qui su YouTube. Per chi non mi conosce sono Federico, nel mio canale parlo di DJ, produzione musicale, quindi se siete interessati in uno di questi argomenti vi consiglio di iscrivervi. Ultima cosa prima di iniziare, volevo ringraziare lo sponsor di questo video, iMusician. iMusician è un servizio che vi permette di rilasciare le vostre tracce sugli store come Beatport o sui servizi di streaming come Spotify. In maniera tale sia da guadagnarci dagli ascolti, sia di fare pubblicità, quindi avere alla pari di una casa discografica la possibilità di rilasciare una traccia. Se non anche di più, perché sarete voi a decidere quando rilasciarla, come rilasciarla. Ci sono un sacco di piani che offrono diversi vantaggi, io vi consiglio di visitare il loro sito per avere maggiori informazioni su come funziona il loro servizio. In particolare ci tengo a segnalarvi a iMusician in questo periodo per due cose. Uno perché stanno facendo una grandissima promozione estiva per tutti quanti quelli che sono interessati a rilasciare le proprie tracce in questo periodo. Ci sono degli sconti, qui sotto in descrizione avrete maggiori informazioni su questi sconti. E inoltre, sempre in descrizione, troverete un link molto utile ad una guida del loro blog, il quale spiegherà come poter rilasciare una traccia e ottenere il massimo delle visualizzazioni su Spotify. Quindi non soltanto vi aiutano nel fatto di rilasciare tecnicamente la vostra traccia, ma anche nel come rilasciarla nel miglior modo possibile. Quindi se siete interessati anche semplicemente a darci un'occhiata su come poter ottenere il massimo delle visualizzazioni su Spotify, qui sotto in descrizione troverete una guida completa scritta da loro su come è possibile prendere e ottenere il massimo da questa piattaforma. Detto ciò passiamo alla console e andiamo a vedere le 5 funzioni nascoste. Ok ragazzi, eccoci qui la console, passiamo subito alla prima funzione. La prima funzione riguarda il loop, ovvero la possibilità di ridurre il loop muovendo la jog. Vi faccio vedere come funziona. Per farlo farò partire la traccia. In un punto qualsiasi fisserò un loop, l'inizio, e poi fisserò la fine sempre in un punto qualsiasi. Come sentito ho impostato questo loop. Adesso come funziona. In questa console in particolare, come in realtà nella maggior parte, sarà sufficiente premere il tasto OUT nuovamente e poi andare a muovere la jog. In questo modo, se lo spazio immaginiamo sia questo, per del loop, della riproduzione del loop, andrà con il nostro movimento della jog piano piano a ridursi. Vedete che si illumina? Andiamo a muoverla a jog. Questa funzione è molto comoda se ad esempio vogliamo creare un build up con l'utilizzo del loop senza prendere e ad esempio avere questi tasti qua, oppure utilizzare questi tastini qui e andare a ridurre il loop in maniera simmetrica, quindi passare tipo da due battute a una battuta a mezza battuta, ma semplicemente andare a scorrere tutti quanti i piccoli decimi, diciamo, della traccia del loop. La seconda funzione che purtroppo non riesco a mostrarvi ora perché non ho nessun microfono portato a di mano, si tratta comunque sul microfono, la maggior parte dei mixer o dei controller hanno un'entrata microfonica e moltissimi tra questi hanno la possibilità di utilizzare il talk cover. Il talk cover è veramente molto comodo se stiamo parlando al microfono sopra le nostre tracce e dobbiamo far capire veramente bene quello che stiamo dicendo, quindi la musica ci dà fastidio e vogliamo che l'abbassamento del volume sia automatico. Quindi ad esempio sto parlando al microfono, voglio che si senta senza prendere e abbassare la traccia, sarà sufficiente impostare il microfono sul talk cover in maniera tale che quando il mixer rileva il segnale dal microfono automaticamente abbasserà tutto quanto il volume del master, cioè di tutti quanti i canali e si sentirà soltanto il microfono. Funzione altrettanto comoda se non state parlando voi il microfono, ma c'è ad esempio uno speaker che ha bisogno di parlare e non sapete quando deve parlare e quindi senza dover abbassare ogni volta, semplicemente impostando nel talk cover si abbasserà automaticamente il volume della console. Un'altra funzione molto comoda che integrerò in due funzioni in realtà consiste nella possibilità qua di andare a regolare la curva del crossfader o dei fader dei canali e la possibilità di andare a sistemare la release della jog sia in start che in stop. Adesso vi spiego meglio cosa consiste questa cosa. Andando prima al CDJ che è forse un po' più facile da capire, semplicemente io ho il CDJ 850, poi bisogna vedere che CDJ o che console si ha, però io ad esempio ho la possibilità attraverso questo potenziometro di regolare nel momento in cui una canzone parte o una canzone finisce e sono nella modalità vinile, nel CDJ, dirgli con quale velocità partire, simulando diciamo l'effetto del vinile che quando si usavano i giradischi c'erano certi giradischi che magari avevano una partenza abbastanza diretta, come questa, mentre altri giradischi, magari quelli anche da DJ, magari che non avevano una trazione diretta, ma avevano la cinghia, partivano più in questo modo. Questa funzione può essere molto carina da utilizzare ad esempio per far finire le canzoni o in certe console, se è presente la sleep mode, per far fermare la canzone e farla ripartire in un effetto molto carino, utilizzato da moltissimi DJ, ad esempio James Hype e moltissimi altri. Non spaventatevi, nei controller solitamente sempre presente, l'unica cosa bisogna andare a regolarla dalle impostazioni. Quindi in base al software che utilizzate vi basterà andare nelle impostazioni e troverete le impostazioni per prendere e impostare sia la partenza, quindi quando premete play, sia la pausa quando premete la canzone per mettere in pausa. La curva qui invece cosa serve? Serve sostanzialmente per dire in quale modo ai fader, ad esempio, ma anche al crossfader, dar volume alla traccia. Ad esempio qua ho quella del crossfader che se è impostata in questo modo, tutta destra, sostanzialmente la canzone da A a B sarà progressivamente cambiata. Se invece imposto in questa maniera qui centrale, ad esempio, quando mi trovo in questa posizione qui in partenza e parto, il volume sarà già più alto rispetto a questa curva qui. Funzione molto consigliata rispetto a questa. Quest'ultima curva qui invece è molto utile per scratchare. In questa posizione vi farà sentire entrambe le canzoni nello stesso modo, anche in questa, anche in questa e anche in questa. Non appena tocco B si sentirà solo la traccia B. Quindi funziona molto comoda per fare questo movimento qua molto utilizzato nello scratch. Stessa cosa per i fader qua dei canali, ci sono altre impostazioni. La quarta funzione interessante è la possibilità di togliere l'auto cue. L'auto cue è la funzione che permette, almeno nei CDJ, di far fermare la lettura delle tracce nel momento in cui si inizia una nuova traccia. Quindi una volta che una traccia finisce, quella successiva viene caricata ma il lettore si ferma. Andando a toglierla, nel mio caso è sufficiente tenere premuto questo tasto, vedete che si è tolta. Quando prendo e finisco questa traccia, partirà successivamente, senza che io debba premere il play, la traccia successiva. Quindi se ad esempio dovete mettere musica di sottofondo, potete prepararvi una playlist e far andare le canzoni automaticamente. L'ultima funzione invece è esclusiva soltanto di certe console, in particolare di certi mixer, e consiste nell'utilizzo del tap. Non è nessuna funzione particolare, però ho conosciuto moltissimi di sei che non utilizzavano il tap, non sapevano neanche cosa fosse. E sostanzialmente quando utilizzate gli effetti, quindi il mixer ha bisogno di sapere i BPM delle tracce, i BPM potrebbero non essere precisi, specialmente se calcolati troppo velocemente. Quindi attraverso l'utilizzo del tap potrete tenere voi il tempo e potrete avere sul mixer il tempo preciso stabilito da voi. Vi faccio vedere come si fa. Semplicemente qui premete tap e vi tenete il tempo. In questa maniera potete prendere facilmente il tempo dalla canzone, senza lasciare lavoro automatico al mixer. Niente, per il video di oggi è tutto. Se vi vengono in mente altre funzioni presenti in più o meno tutte le console, e infatti ho escluso molte funzioni presenti solo su certe console, fatemelo sapere qui sotto con un commento. Qui da Federico è tutto e noi ci vediamo con un nuovissimo video.